Ciao, sono Monica e vi sto per presentare un'autovettura dir poco spettacolare Peugeot 508 RXH, colore nero è un'autovettura aziendale immatricolata nel dicembre del 2012 e conta 20.000 km vi mostro gli interni l'allestimento interno è parzialmente in pelle 5 posti verifichiamo subito il chilometraggio 20.027 il volante multifunzione cambio automatico doppie chiavi auto radio, lettore cd e navigatore questa è la nostra proposta del giorno Peugeot 508 RXH venite a provarla di persona a vederla chiedete dei nostri esperti del prodotto Giovanni, Umberto o Nicolò noi siamo a Barzago in via statale numero 17 e siamo la Ratti non solo auto SRL via dell'organizzazione di